Non si resiste mai alla tentazione di acquistare un pandoro e poi molte volte si riceve anche in regalo. E quindi come consumarlo? Beh, vi faccio vedere come mi piace trasformarlo in un dolce davvero golosissimo, ricco di crema e frutta. Per la crema ho scelto di utilizzare mascarpone e panna fresca. L'ho zuccherata a piacere e l'ho abbinata a mirtilli e lamponi. Frutti che secondo me esaltano benissimo tutta la bontà del mascarpone. Questa ricetta è davvero molto semplice però l'effetto finale sarà piuttosto scenografico, quindi preparate questo pandoro farcito soprattutto se avete ospiti a casa. Prendete il vostro pandoro, eliminate la base, giusto mezzo centimetro solo perché delle volte è un po' bruciata. Ricavate poi due o tre fette a seconda dell'altezza che volete assegnare al vostro dolce. Ogni fetta deve essere spessa qualche centimetro, ma questo va a piacere. Ottenute tre stelle, posizionate sul piatto da portata la prima, quella più grande, e poi procedete con la bagna che preferite. Nel mio caso, avendo anche bambini a tavola, non ho voluto usare alcolici, quindi vado a ricavare semplicemente succo di mandarini, che sono già dolci per natura, quindi non aggiungo altro zucchero, e utilizzo questo succo per bagnare un po' il mio pandoro. Preparare la farcia è facilissimo. In una ciotola con le fruste pulite e fredde andiamo a montare 250 ml di panna fresca, per intenderci quella non zuccherata che trovate nel banco frigo. In un'altra ciotola lavoriamo sempre con le fruste mezzo chilo di mascarpone, aggiungendo zucchero a piacere, nel mio caso 100 grammi. Diamo un po' di profumo grattugiando anche la buccia dei mandarini, che ovviamente devono essere biologici. Aggiungiamo adesso la panna al mascarpone e lavoriamo ancora per qualche istante per ottenere una crema omogenea. Andiamo a bagnare con qualche cucchiaio di succo di mandarino. Mettiamo la crema in un sac a poche per distribuirla sulla stella di pandoro in maniera uniforme e quindi andiamo a creare il primo strato di crema e poi sparpagliandoli qua e là mettiamo qualche mirtillo e dei lamponi. Sovrapponiamo la seconda fetta di pandoro, quindi la seconda stella cercando di sfalsare le punte rispetto alla prima fetta. Anche qui andiamo a bagnare con qualche cucchiaio di succo di mandarino, ancora della crema, mirtilli e lamponi e infine l'ultimo strato. Qui vado a ricoprire tutto con la crema. Decoro con altra frutta mettendo anche al centro spicchi di mandarino per dare un'ulteriore nota di colore ma anche per richiamare la bagna utilizzata. Zucchero a velo come tocco finale, però questo aggiungetelo ovviamente poco prima di portare il dolce a tavola. Prima di servirlo in ogni caso è necessario un riposo in frigorifero. E a voi come piace riciclare il pandoro? Scrivetelo nei commenti, io vi aspetto anche sui nostri siti cibodoc.it e vivomangiando.it con tante altre ricette.